Siamo onorati di ospitare a Bologna, in Emilia-Romagna, il Policy Committee, un organismo di rappresentanza elettiva, oltre 100 delegati da comuni e regioni di tutta Europa, è un organismo che raccoglie 100.000 enti locali in rappresentanza di una quarantina di paesi europei, quindi addirittura oltre l'Unione Europea. Discuteremo di transizione ecologica e digitale, alla luce anche delle troppe siccità o alluvioni che avvengono nei nostri territori in questi ultimi anni, discuteremo di violenza di genere, questione, problema drammatico che riguarda tutto il mondo europeo-occidentale, così come affronteremo il tema della ricostruzione dell'Ucraina una volta che sarà terminata la guerra.